Buongiorno 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 Vedi come passano apposto? Questa non è apposto Questa non è apposto Quora è per allenare con i catrugni è un bottone è un bottone Tra un po' sono qua Buongiorno No Non lo vedi Non lo vedo No l'avete E' lì Allora Anche tu Francesca Quei tu dove la metti davanti allestate Ecco Vado? Ah, mi hanno bollettato bene, credo. Non sei preparato. Purtroppo che arrivano perché fanno finire la moto. Mamma, che fanno? Quanto è lì? Chiara? No, hanno un grado le persone. Ah, vedo il mio. Guarda. Chiara, mi raccomando, non scettere per nessuna ragione. Eh, vabbè, io te lo giuro. E se arrivi il mostro, ti prendi il mostro. Se arrivi, non puoi scendere, ti prendi il mostro. Siete 200, tutti e due. Allora, non so le... Siete 300,000, tutti i giovani. È un bel lavoro. È un bel lavoro nel ritmo. È un bel lavoro. Sempre sono stati da migliorare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.